Mostriamo la foto della vincitrice Ok, vi salremo Questo è detto, oggi quante ne abbiamo? Oggi è 18 Ma che diciamo? 17 Oggi è 17 Troppo rimane con 17 No, ma qui già risulta la festiva Questa è tutta la vincitazione Questa è tutta la vincitazione Tutto truccata Tutto truccata